benvenuti benvenuti a questa serata benvenuti anche a chiara e a claudia che assieme a me condurranno questa serata buonasera a tutti ciao chiara è muzza buonasera è giusto che sia così vedete tra l'altro il nostro bellissimo sfondo abbiamo scelto questa sera di mettere degli sfondi totalmente a casaccio quindi tipo il mio è un green screen sbagliato forse claudio si è messa bene tu alla fine ma anche chiara è messa abbastanza bene ho tentato di nascondere il patchwork di un muro universitario non so se sono riuscita a farlo bene ce l'hai fatta è stato un successo allora bene bene allora perché siamo qui questa sera ma questa sera siamo qui per festeggiare la giornata internazionale delle donne delle ragazze nella scienza è una giornata che è stata istituita dall'onu nel 2015 e ha lo scopo di ricordare tutta una serie di donne conosciute o che sono rimaste sconosciute ai più che però hanno segnato il loro tempo facendo scienza e che possono essere un esempio per tutti noi per trovare la nostra strada nella nostre discipline preferite esatto esatto la serata è creata da scientifica perché ci state vedendo su youtube di scientifica se invece ci state vedendo su facebook di scientifica dove è uguale altrimenti ci state vedendo da dal facebook di geopavia chi siamo scientifica sta un'associazione che nasce una decina d'anni fa per fare divulgazione scientifica e e quindi quello che ci interessa oltre a fare divulgazione scientifica come ricercatori o ex ricercatori chiaramente supportare la presenza delle donne nella scienza che purtroppo è brutto da dire tra l'altro nelle domande qualcuno lo chiede anche perché bisogna ricordare dobbiamo proprio ricordare l'importanza delle donne che le donne hanno fatto qualcosa nella scienza purtroppo sì non sarebbe necessario ma purtroppo sì dobbiamo dobbiamo ricordarlo e quindi scientifica sta un'associazione che si occupa di divulgazione scientifica e quindi anche di parlare dell'importanza delle donne nella scienza purtroppo in scientifica credo che siamo circa il 50 e 50 senza volerlo avete fatto la parità di genere per puro caso chiara sei sempre mutata smutati io mi smuto sì nel senso bravi siete già all'avanguardia in senso oggi le cose fatte in maniera 50 e 50 è futuro quando dovrebbe essere un po insomma la la normalità ma vogliatelo e continuate a volerlo insomma quando quando questo bilancio non sarà perfettamente 50 e 50 in caso accendete una lampadina e cominciamo a chiederci insomma perché a volte non è così però chi lavora bene come vedete chi lavora bene le cose vengono naturalmente così il problema è nato proprio perché evidentemente c'è un problema alla base quindi uno squilibrio che non ha ragioni d'essere se si lavorasse insomma secondo principi scientifici corretti esattamente esattamente se tu volevi presentare un'iniziativa chiara esatto esatto io intanto saluto comunque ancora tutti e ci rivedremo dopo alla fine per nelle domande quindi io alcune colleghe appariremo anche dopo però vi chiedo due minuti per raccontarvi in realtà di un di un'iniziativa scala nazionale che è nata dal basso cioè tre tre persone quindi due professoresse e un assegnista e quindi tre persone si sono incontrate hanno ci sono dette ma sai che c'è bisogno di far qualcosa per valorizzare le donne e le scienze che facciamo quindi nel 2020 mentre il mondo subiva una catastrofe in realtà abbiamo sfruttato l'alta connettività diciamo telematica e abbiamo promosso un un'associazione che è diventata ufficialmente una divisione della società geologica italiana ehm che si chiama pangea geoscienze senza frontiere quindi da tre che eravamo ora siamo più di centoventi iscritte eh legalmente quindi parte della società geologica italiana che è la società scientifica più antica d'italia e e perché quindi il perché siamo nate un po' ehm ve l'ho raccontato ed è il filo conduttore anche di questa serata noi sentiamo il bisogno di eh di far qualcosa per abbattere questi muri di discriminazione un po' la geologia è una scienza che è sempre stata maschile no per per filosofia perché è una scienza in cui si usano i muscoli e le donne diciamo poi magari lo scoprirete durante anche le domande sono state sempre un po' eh meno valorizzate ma oggi non deve essere così non deve continuare ad essere così ehm abbiamo tutti i mezzi per cambiare le cose quindi con questo filo conduttore che è di sensibilizzare le ragazze sin da età scolare quindi andremo a rompere le scatole nelle scuole eh più di centoventi professioniste ricercatrici professoresse dottorande segniste da ogni eh ramo della geologia eh hanno come unico scopo quello di continuare a far rete anche di mentoring per supportare qualora ci fossero dei problemi diciamo non propriamente risolti eh ma anche questo è uno dei nostri scopi quindi nasciamo dal basso ma con veramente un obiettivo alto e e se ci seguite anche sul sito della società geologica italiana o se volete scriverci al al email pangea senza frontiere chiocciolagmail.com potrete avere tutte le informazioni quindi se volete che parliamo nelle scuole se volete unirvi a noi o semplicemente se siete curiosi eh di capire del il perché insomma c'è ancora bisogno di far comunità verso questa direzione e questa questa live è partita anche con un altro messaggio molto importante perché solitamente le geologie non sono la la geologia non è considerata una scienza quindi diciamolo nonostante Ratman eh nonostante le ortolani sia un geologo esatto sia un geologo ha mandato questo messaggio che la geologia non sia una scienza ecco noi ufficialmente lo diciamo la geologia è una scienza poi noi chiamate dirmelo prima di un dottorato così faticoso se me lo dicevate prima magari non fatico così tanto è che c'è questa cosa sul fatto che eh anche anche Sheldon giustamente anche Sheldon Cooper dice che la geologia non è una scienza e poi noi chimici siamo delle persone orribili cioè nel senso sappiamo che i chimici odiano un po' tutte le altre scienze fra cui le altre stesse branche della chimica quindi eh c'è un po' questa sappiatelo che insomma odiamo un po' tutti quindi portate pazienza ehm va bene allora Chiara noi ci sentiamo dopo perché tornerai per una domanda perché quello che facciamo questa sera sarà anche fare un quiz assieme a voi quindi faremo dei dei quiz con una classifica quindi eh chi vince eh chi arriva primo vince una pietra una roccia una roccia meglio roccia di pietra? Sì. Dipende se gliela lanci cioè nel senso eh vabbè eh comunque vince quella lo portiamo via a Chiara eh vince quel fermacarte esatto vince quel fermacarte va bene quindi ehm direi che eh potremmo iniziare a giocare tutti assieme il link per giocare tutti assieme se fossi una persona brava l'avrei già messo in sopra impressione eh ma lo trovate su youtube in eh in descrizione o se no lo fate qui cioè lo leggete qui inserendo quel codice che che vedete quindi andate su quitsits.com slash join e poi inserite quel quel codice che adesso vi lascio per un po' in sovraimpressione così nel frattempo voi ehm vi ehm vi collegate io intanto faccio partire il quiz di quitsits così intanto si comincia. Simo però noi non ti abbiamo ringraziato ufficialmente quindi noi veramente eh sì noi del dipartimento ti abbiamo proprio cooptato cioè ti abbiamo stalkerato fino a che non ci hai aiutato a fare questo evento quindi meriti tutti i ringraziamenti del della situazione. Ah grazie no vabbè ci mancherebbe cioè è il minimo. Vediamo se se porta alla fine l'impresa poi lo ringraziamo momento. Giusto? Giusto. Poliziotto buono poliziotto cattivo non so se hai notato. Va bene adesso eliminiamo subito il poliziotto buono. Ecco. Solo quello cattivo. Dai Chiara ci vediamo poi più tardi per la domanda tra un po'. Va bene? Invece noi Claudia potremmo iniziare a condividere lo schermo per far vedere che cosa succede lato quiz. Ci sono già un po' di persone connesse che stanno già guardando la prima domanda. Ok? La prima domanda è una domanda di prova. Quindi eh potete rispondere non c'è il timer poi dalla prossima ci sarà il timer quindi voi potete iniziare a collegarvi iniziare a rispondere noi nel frattempo chiacchieriamo. C'è qualcuno che mi dice grande Simone torna a fare il tutto rapa via ti sbagli tantissimo non non sai l'errore che stai facendo chiedendomi questa cosa. Ok se avete problemi a connettervi a qui ditelo scrivetelo in chat che cerchiamo di darvi una mano. Abbiamo un moderatore in chat su su youtube che dovrebbe darvi una mano. Quindi non preoccupatevi. La prima domanda comunque è se nel 1800 in Europa il rapporto tra uomo e donna negli ambiti di lavoro scientifico era 1 a 100 quanto ci aspettiamo che sia oggi? E voi state rispondendo. Le possibilità sono le seguenti. Ve le faccio vedere per tutti quelli che non stanno rispondendo vicino alla parità di genere quindi le donne sono il 50 per cento 50 donne su 100 persone impiegate nell'ambito scientifico più della metà quindi più di 50 donne ogni 100 persone circa il 24 per cento o circa il 10 per cento. Tu Claudia non puoi rispondere perché la sai giusto? Sì penso di sapere la risposta perché l'ho ripassata. Sappi che in scientificast e non faccio nomi ci sono persone che stanno organizzando quiz di questo tipo e sbagliano a rispondere le risposte che loro stessi hanno creato perché facciamo talmente difficili. Sì in realtà la domanda l'abbiamo scritta male perché vedi che dice il rapporto tra uomo e donna invece era tra donna e uomo 1 a 100. Però l'avete capita voi. Io sono sicura che chi legge l'ha capito cosa intendevamo dire. A volte sorprende questa risposta. Sorprende anche noi che lavoriamo nella scienza. Io stavo per dire ma chi vuoi che se ne sia accorto e infatti subito Benedetta ha immediatamente fatto notare questa cosa. Grazie Benedetta ma ti abbiamo anticipato. Quindi abbiamo vinto comunque noi. Va bene che dice andiamo verso la risposta a questa domanda. Sì vedo che hanno votato un po'. Ok. Tanto poi ci saranno le domande successive quindi questa diciamo che è la domanda di prova. Ok. La risposta corretta. Prima di tutto questi sono quelli che hanno risposto. Stefi Zave prima. Abajur seconda. Ecco questa è la risposta giusta che in realtà avete preso quasi tutti perché la maggior parte 22 persone hanno risposto correttamente era 24 su 100 che non è cioè nel senso è 24 volte più di 1. Non è così tanto. No anche perché se andiamo a vedere qual è la parità di genere nei lavori, negli impieghi più generali dell'Europa noi siamo arrivati al 50 per cento. Cioè se ci sono 100 posti di lavoro 50 sono occupati da donne. Ma se andiamo a investigare quante di queste sono impiegate in lavori che hanno a che fare con scienza, tecnologia, ingegneria e matematica sono solo il 24 per cento di quelle posizioni lavorative. E la cosa secondo me peggiore è che una su tre di quelle donne entro i dieci anni rinuncia a un lavoro nell'ambito delle scienze della matematica, dell'ingegneria, lavori di tipi tecnologici. Quindi è vero che in questi cento anni le cose sono migliorate, siamo andati da 1 a 24, però questo aumento è molto lento perché comunque negli ultimi dieci anni la percentuale si è spostata solo di un punto. Quindi si può fare molto di più perché effettivamente le donne possano occupare, e abbiano voglia anche di occupare un maggior numero di posizioni lavorative nell'ambito scientifico. Esatto. Tra l'altro qui sto facendo vedere un'immagine in cui non c'è solo una questione di impiego, ma c'è anche una questione di salario. Sì, questo è un discorso molto lungo e veramente spiacevole perché pare che effettivamente le donne a pari posizione guadagnino meno degli uomini in Europa, quindi non lontano da noi. Proprio nelle posizioni dirigenziali, anche se acquisiscono lo stesso livello, la stessa categoria lavorativa, guadagnano meno. Ecco, quindi chi si chiedeva all'inizio, ma dobbiamo veramente ricordare cosa hanno fatto le donne nella scienza? Sì, visto che qualcuno quando poi decide di definire gli stipendi non ci pensa, insomma. Va bene, allora, se sei d'accordo io partirei con la prima domanda di questa serata. Quindi la prima domanda vera, quella di prima era una prova, quindi andrei alla prossima domanda. Datemi un attimo che sto switchando fra le finestre. Nel frattempo tu puoi riempire i miei buchi di regia con delle parole a caso. Con parole a caso. Sono contenta però che la risposta sia stata comunque corretta, perché vuol dire che c'è questa consapevolezza, c'è questa percezione della differenza tra uomo e donna in questo tipo di attività lavorativa. Passiamo alla prossima domanda. 60 secondi per rispondere alla seconda domanda, che è in che anno fu pubblicata la prima mappa del fondo del nord atlantico rappresentata la dorsale oceanica. Allora, le possibilità, ve lo dico già, sono 1890, 1957, 1963, 1985. Io a questa domanda non saprei minimamente rispondere. Beh, ma guarda, se ne è parlato molto durante il 2020, perché chi ha disegnato questa carta avrebbe compiuto 100 anni. E quindi ci sono stati diversi articoli di giornale per ricordare chi ha disegnato questa mappa, però ci aiuta a scoprirlo un assegnista del nostro Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente, che si chiama Carlotta Ferrando, che è un assegnista che si occupa proprio dello studio dell'espansione dei fondali oceanici, ha avuto la fortuna di partecipare a tre missioni oceanografiche, quindi a pieno titolo è capace di raccontarci anche l'importanza di questa scoperta. Ciao Carlotta, benvenuti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Allora, nel frattempo vediamo che le risposte sono andate abbastanza bene, perché la risposta corretta era appunto 1957, anche se un sacco di persone hanno risposto ben 1963, che però lì, nel senso sono passati sei anni. Abbastanza vicino, dai. Non era facile, non era facile. Cioè, gli altri due erano clamorosamente un po' più in là, cioè 1.285, 1.890 c'era un bel po' di distanza. Esatto, esatto. Pensate che la prima persona che scoprì la dorsale oceanica fu proprio una donna, un oceanografa, Mary Tarp. Fu Mary Tarp nata nel freddo Michigan degli anni venti, che insieme a Bruce Isen mostrò a tutto il mondo, per appunto la prima volta, che una catena montuosa, stretta ma continua, si trovava al centro dell'oceano atlantico. Mary Tarp era appunto una, era figlia di un cartografo ed ebbe una vita un po' diciamo travagliata e infatti cambiò a diverse università e finalmente arrivò, approdò all'università di Colombia e New York, in un momento particolare, in un momento storico-politico tra la seconda guerra mondiale e la guerra fredda. Anche in un momento in cui c'era tanto interesse nel comprendere appunto il fondale oceanico. Tarp purtroppo, in questo caso essendo una donna, non ebbe l'opportunità di salpare a bordo, di far parte di una spedizione oceanografica, ma si concentrò su dei profili geofisici che vennero acquisiti dai suoi colleghi e con solamente sei profili geofisici capì, comprese, che era presente appunto al centro dell'oceano atlantico, una catena montuosa. Questa catena montuosa sappiamo adesso essere appunto la dorsale oceanica che è presente in tutti gli oceani e dove appunto si crea nuovo materiale in continuo ed è a formare poi la crosta oceanica. Il merito purtroppo le fu riconosciuto solo dopo parecchi anni ed è oggi considerata una dei quattro maggiori cartografi del XX secolo. Solo una piccola nota piuttosto particolare è che nonostante fosse comunque sia americana, non fu, ovviamente non avendo potuto salpare su una nave, la prima donna a salpare su una nave oceanografica americana fu una donna russa, Enina Lubimova. Fu mandata appunto da Khrushchev per appianare i conflitti tra i due stati a seguito della crisi cubana. Grazie mille per aver raccontato la sua storia che è un po' vicina a noi perché anch'io come Carlotta ho partecipato a una crociera oceanografica in anni recentissimi e le donne sono sempre un certo numero e quindi ci sembra quasi normale che si possa partecipare, però per esempio nel 2017 nella missione a cui ho preso parte io c'era una grossa compagine asiatica e mi disse il capo spedizione che nella prima ipotesi non avevano messo nel gruppo di scienziati nemmeno una donna e gli fu chiesto di fare la quota rosa. Quindi una cosa che per noi europei, americani, comunque adesso è la normalità che ci siano delle donne a bordo, non crediate che sia così per tutti i paesi del mondo. Quindi Carlotta è molto fortunata a poter andare direttamente a prendere i suoi campioni e studiarli proprio dove li ha raccolti e quando li ha raccolti lei. Quindi bravo, complimenti. Scusa, una notte positiva diciamo per il futuro. Volevo solo farvi notare che c'è stata una spedizione pochi anni fa, anzi due anni fa, l'anno scorso non mi ricordo più, dove i cif, i capi della spedizione erano due donne e diciamo che tutto l'equipaggio era principalmente composto da quasi tutte donne. Quindi insomma, per fortuna le cose stanno cambiando. Speriamo continuino. Sì, una cosa interessante è che, è anche un po' triste, forzino a prendere l'equatorosa perché in realtà statisticamente dovrebbe spontaneamente, era un po' quello che dicevo prima, tra l'altro mi hanno detto che in scientifica siamo 10 donne e 11 uomini, quindi più o meno noi eravamo nel 50 e 50. Cioè, ci è stata che statisticamente sia così, senza che debba scegliere, debba dire, no, no, lui non può venire, deve venire lei perché se no se non ti obbligo non scegli una donna. Cioè, assoluta questa cosa. Nel frattempo però, la domanda più intelligente è stata fatta dall'account di scientifica stesso, cioè mi sto ringraziando da solo, anche se non scrivo io i commenti di scientifica, questa, che chiede, ma una vacanza sulla dorsale atlantica conta come? Andare al mare o al montagna? Non so se volete rispondere, questa è una posizione ufficiale. Sono delle due, direi. Tu come ti senti? Perché al mare e in montagna diciamo che puoi spostarti, puoi camminare, puoi, hai la possibilità di vedere nuovi paesaggi sia al mare che in montagna. Su una nave l'unica cosa che vedi è l'acqua. L'acqua e i tuoi colleghi che speri che siano simpatici, nel mio caso, per fortuna, erano simpatici, non sono il tuo, Claudia. Sì. Meno male. E no, puoi correre e basta. E lavori parecchio. Lavori, hai dei shift di 12 ore, poi dipende in che tipologia di nave, però è piuttosto che andare, che essere in vacanza. Non si è molto in vacanza, ecco. Ecco, giusto la domanda veloce perché c'è, questo è interessante, ma vi dovete immergere voi i geologi? Cioè i geologi si immergono o raccogliete dal fondale? Nei casi dove siamo andati sia io che Claudia non ci siamo immersi, giusto Claudia? No. Viene perforato il fondale con una colonna di perforazione che non distrugge il sedimento e il fondale, ma estrae il materiale indisturbato in un cilindro di un diametro abbastanza piccolo per non disturbare la vita che è sul fondo. Adesso però la dobbiamo salutare Carlotta, altrimenti non finiamo più. Ciao Carlotta. Grazie mille. Ciao. Andiamo alla prossima. Ok, andiamo alla prossima domanda. Ok. Allora, 3, 2, 1, la prossima domanda dice Lynn Margulis si pronuncerà così, io lo pronuncerò sicuramente malissimo, comunque la dottoressa Margulis fu la prima a ipotizzare la teoria dell'indosimbiosi come teoria della vita eucariota. Dopo quanti rifiuti riuscì a pubblicare la scoperta su una rivista scientifica? Io non so cosa sia l'indosimbiosi, qui mi fa capire che sia una teoria fondamentale della vita eucariota. Sì, della cellula con nucleo. Quindi adesso scopriremo... Aspetta, fino a cosa sia la vita eucariota ci arrivo. Ha a che fare su come nasce la cellula eucariota, ma ce lo spiegherà Agnese Marchini, che è una professoressa di ecologia del nostro dipartimento, è un'appassionata di artropodi acquatici di biodiversità. Da anni si occupa degli alieni del mar Mediterraneo, cioè delle specie invasive del mar Mediterraneo. È stata recentemente protagonista di un documentario dell'ufficio dell'ONU che si occupa di navigazione e ambiente marittimo, partecipa a diversi gruppi di lavoro internazionale per la gestione e il contenimento delle specie invasive e però è una biologa, ci può spiegare bene che cos'è questa teoria. Allora, premettiamo... Scusami, ciao Agnese. Premettiamo un attimo che dopo tutto questo curriculum mi stai antipatica, perché tutte le persone troppo più brave di me. Cioè, io avevo dato una riga di curriculum, tutto sta roba, l'hai stata tutta inventata. Io faccio come voglio. Allora, sì, sì, questa scoperta di Rimarmulis io la spiego sempre ai miei studenti quando parliamo appunto di rapporti tra specie, di simbiosi, perché mi piace molto proprio il fatto che sia stata proposta da una donna. Adesso vi spiego poi perché. L'endosimbiosi è una teoria che spiega come si è formata la cellula eucariota, cioè dalla cellula semplice che è quella dei batteri, la procariote, si è passata a un certo punto nella storia della vita del nostro pianeta a una cellula complessa dove le varie funzioni cellulari sono svolte da dei organelli interni come i mitocondri, i cloroplasti per la fotosintesi, il nucleo, eccetera. Quindi com'è avvenuto questo? La Margulis ha ipotizzato che sia stato un caso di endosimbiosi, cioè un batterio più ceccione che si è fagocitato un altro batterio più piccolo, ma invece di digerirlo lo ha tenuto in vita e gli ha assegnato un compito che poteva essere di svolgere la respirazione cellulare, come nel caso del mitocondrio, svolgere la fotosintesi come nel caso del cloroplasto. Quindi i due hanno continuato a coesistere cooperando, quindi è una endosimbiosi mutualistica con un reciproco vantaggio, cioè il vantaggio è di fare una cellula più efficiente, di fatto tutti gli organismi superiori, piante, animali, eccetera, hanno cellule eucariote, quindi con questo tipo di organizzazione. Ok, all'interno del quiz in effetti la maggior parte delle persone hanno detto che la scoperta non era mai stata pubblicata, in realtà invece è stata pubblicata, ma comunque dopo 15 volte, che insomma scoraggierebbe chiunque onestamente, oggi come oggi 15 submission rifiutate. Sì, assolutamente. Cioè per chi ha esperienza di pubblicazioni scientifiche, diciamo che già dopo un reject ti viene un po' di depressione, dopo due forse ci riprovi, dopo tre penso che lasci perdere. Questa ci ha riprovato 15 volte, poi immagino abbia stato anche a dei congressi dove era considerata una radicale. E all'epoca in cui ha presentato questa sua ipotesi, diciamo il discorso era dominato da un certo tipo di evoluzionismo darwinista che io definisco evoluzionismo testosteronico, cioè la lotta per la sopravvivenza, vince il più forte, vince il più adatto, la esclusione competitiva, quindi queste teorie che sono anche vere, eccetera, però l'evoluzione come ci si combatte tutti e vince il migliore, e solo il migliore va avanti. Qua la Margulis ha una ipotesi completamente opposta, cioè l'evoluzione, lo sviluppo verso forme più complesse viene dalla cooperazione. E questo, a me piace l'idea che l'abbia pensato una donna, appunto in opposizione a questa visione più, chiamiamola violenta, insomma non è proprio così, però ecco, mi piace che l'abbia pensato una donna e la cooperazione di fatto è anche uno dei motivi di successo della specie umana su altre specie, nel senso che la specie umana sa cooperare, perché anche noi ci dividiamo le nostre varie funzioni tra di noi, quindi la cooperazione è una chiave di successo, questo è un messaggio anche che vorrei dare ai colleghi, perché anche nella scienza spesso è un ambiente molto competitivo, l'ambiente scientifico, però le cose buone si possono ottenere anche dalla cooperazione. Ad esempio io e Claudia cooperiamo, sebbene io sia una biologa e lei sia una geologa, ma cerchiamo anche noi... Aspetta, stai ribadendo una certa superiorità della biologia sulla geologia anche tu, cioè lasciando un cover nuovo. Io sto fagocitando, io voglio fare quello grosso che fagocita, sono anche più grossa di Claudia, quindi ci sta. Ma possiamo cooperare, poi vediamo chi è che fogaccita era a chi, dai. Ricordati che i sassi, giusto per usare sempre dei termini scorretti, non si fagocitano facilmente. Sono un po' indigesti. Un calcolo, un calcolo. Volevo solo ricordare una frase che ho trovato, che ha lasciato quando è scomparsa una decina di anni fa, nel 2011 proprio, si, dieci anni fa, la Margolis, un suo studente ha lasciato un articolo in cui ha ricordato una frase che a lei piaceva pronunciare, diceva, io non penso che le mie idee siano controverse, io penso che siano giuste. Quindi determinazione massima per questa donna che io ammiro tanto. Grazie mille Agnese. Grazie mille Agnese. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Andiamo avanti Simone. Ok, vai. Andiamo avanti con la prossima domanda. Se volete partecipare, vi ricordiamo che trovate il link nella descrizione di YouTube oppure andate su quello che vedete qua in sovraimpressione, inserendo il codice 886230. Potete giocare anche voi. Tutti possono giocare, anche se il quiz è già iniziato, quindi non fatevi scoraggiare. La domanda è, cosa è stato dedicato a Flores Bascom? Io li sbaglio tutti questi cognomi. Ditemi di che nazionalità sono. Questa è giusto, americana, ma è giusto. Ok, Bascom. Quindi altrimenti potrebbe essere Florence, una francese. Prima geologa del servizio geologico americano. Le risposte possibili sono un panino di McDonald's, che si chiama quindi Florence, un cratere di Venere, il cratere Bascom, una nave, la nave Bascom, o un fiore, il famosissimo fiore Florence. Nel caso fosse francese sarebbe Florence Bascom. Bascom. Allora, intanto che rispondete, vi prendete il vostro tempo per rispondere, per ragionare su cosa può essere stato dedicato a questa donna, prima assunta dal servizio geologico americano, introduciamo il nostro risponditore, che è Silvia Tamburelli. Ciao Silvia, sei mutata, smutati. Ciao Silvia. Silvia è una dottoranda del nostro dipartimento, è una geologa, e il suo progetto è in collaborazione con Eni, e tratta lo studio della diagenesi da diversi punti di vista, geochimica, microtermia. ma mi piace perché quando ho chiacchierato con Silvia lei mi ha detto ma più studio la geologia e più mi piace, perché vedo che è l'insieme di una grande varietà di discipline. E quindi vediamo se poi Silvia avrà qualcosa in comune con questa dottoressa Bascom. Allora, qui hanno già risposto? Sì, hanno già risposto, il 25, 25 persone hanno risposto un cratere di venere che è la risposta corretta, nessuno ha risposto veniamo dedicato un panino al McDonald's, purtroppo. Io ragazzi, continuo a dirvelo, io continuo a dirvelo, qualcuno di voi, per favore, risponda nelle risposte più male possibili. No, non è vero, fate bene, fate bene. Ok Silvia, raccontati. risposto giusto, ma non è stato dedicato solo un cratere di venere a questa scienziata della seconda metà dell'Ottocento, sono stati dedicati anche un lago glaciale e una hall dell'Università di Wisconsin. È importante ricordare questa scienziata perché nonostante al suo tempo appunto non avesse accesso a alcune aree dell'università, non potesse entrare durante le lezioni universitarie se erano già presenti degli uomini, è riuscita a laurearsi prima in arte e lettere e poi ha preso una laurea in scienze. È diventata un'esperta in cristallografia, in mineralogia, in petrografia e dopo questo è bello ricordarla perché è stata prima donna in diverse cose. Come abbiamo messo nella domanda, è stata la prima donna al servizio geologico americano, è stata la prima donna a presentare un articolo alla società geologica di Washington ed è stata anche la prima donna a entrare nel consiglio dell'USGS. Inoltre ha poi fondato il dipartimento di geologia del Brinmore College. In questo dipartimento poi appunto ha iniziato diciamo ad addestrare diverse scienziate e quindi a creare un gruppo di geologhe che poi hanno appunto fatto diverse scoperte scientifiche nel ventesimo secolo. È stata anche la seconda donna a prendere un dottorato in geologia negli Stati Uniti nel 1893 dopo Mary Holmes che nel 1888 ha preso un dottorato in Michigan ed è bello vedere che adesso 130 anni dopo diciamo il suo dottorato al Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia siamo 16 donne iscritte su una trentina totali e 6 si stanno dottorando quest'anno quindi è bello vedere come stanno cambiando i numeri comunque un po' di speranza c'è sempre. Sì questa è sicuramente una bella soddisfazione sapere che nelle scienze ma poi soprattutto nelle nostre discipline soprattutto nei primi step della vita accademica si sia raggiunta la parità di genere quello che noi sappiamo però dai report sia europei che nazionali e che anche all'interno della vita accademica poi le cose cambiano proseguendo e c'è quello che viene chiamato proprio il grafico a forbice cioè si parte con un 50% di donne e uomini nel dottorato e poi man mano che prosegue la carriera assegnisti ricercatori professori associati professori ordinari si apre un grande divario e quindi si è molto lontani dalla parità di genere questo è un lavoro recente che è stato pubblicato dai colleghi di Padova Claudia Nini e altri nel 2020 proprio e fa vedere come ancora in questi anni noi abbiamo magari un 80% di professori ordinari contro un 20% di donne ordinario quindi dobbiamo lavorare perché si possa mantenere l'opportunità alle ragazze di diventare donne di scienze strutturate e con posizioni apicali e quindi lavorate bene anche voi e impegnatevi per crearvi il vostro spazio mi raccomando Silvia assolutamente assolutamente grazie per aver partecipato grazie a voi ciao grazie ciao allora mi dicono che la condivisione è leggermente in ritardo quindi quando noi diciamo passiamo alla prossima domanda si arriva la prossima domanda un po' in ritardo quindi noi adesso questa chiacchiera che stiamo facendo in questo momento in cui io dico cose che non hanno né capo né coda servono per avvisarvi che stiamo per andare alla prossima domanda così quando io attivo veramente il quiz della domanda successiva voi siete pronti e quindi spero che adesso lo siate la prossima domanda è la seguente quale fu la più grande scoperta sugli scimpanzè da parte dell'etologa Jane Goodall o Goodall io penso Goodall Goodall beh questo è chiaramente Jane credo che sia un nome abbastanza ma anche il suo volto anche il suo volto è molto noto io direi sì beh ok perché ha fatto la storia della biologia ma anche è veramente un esempio per le ragazze di ogni tempo perché è stato anche recentemente girato un report sulla sua vita da National Geographic veramente toccante che mostra tutte le tappe di questa giovane donna che diventa madre che porta addirittura il figlio con sé e studia da vicino gli scimpanzè ci aiuta a rispondere dimmi se la conosco persino io vuol dire che oggettivamente hai perfettamente ragione va bene dicevi ci aiuta a rispondere a questa domanda Andrea Gazzola che si è laureato in ciao in scienze biologiche all'università di Pavia e ha fatto un dottorato in ecologia sperimentale è esperto nel comportamento antipredatorio degli anfibi e delle sue modificazioni durante lo sviluppo queste sono cose estremamente interessanti e che veramente anch'io conosco proprio poco ciao Andrea benvenuto ciao Claudia ciao Simone è un argomento un po' specifico in effetti a dire il vero non è molto guarda quando tu dici comportamento antipredatorio a me viene in mente un predatore che vede la sua prete e dice no così non credo sia veramente così però va bene ma intanto sempre nascondersi o scappare o stare immobili completamente per non farsi avvistare dal predatore l'antipredatorio non è il predatore che dice no 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 è la preda che ha il comportamento per la preda esatto focalizzi l'attenzione sulla preda e non sul predatore certo ok va bene la domanda hanno risposto giusto quasi tutti quindi sono in grado di costruire utilizzare strumenti quindi questa diciamo che forse è più mainstream forse perché molti più conoscono la storia di Jane sì Jane Goodall non so immagino che tutti quelli che hanno risposto poi conosceranno anche Corrad Lorenz ecco Jane Goodall è un po' l'equivalente femminile di Corrad Lorenz dell'immaginario comune dell'etologia se voi chiedete a un etologo dimmi un nome femminile dietologa il primo nome che ti viene in mente è proprio Jane Goodall cioè quello maschile di solito è Corrad Lorenz che è il padre di questa scienza come diceva Claudia Jane Goodall già molto giovane a 26 anni ha iniziato le proprie ricerche sulle rive del lago Tanganyika sugli scimpanzè non è affatto tutto da sola è stata inizialmente guidata dal famoso antropologo paleontologo Louis Leaky che avevamo già un nome era un nome molto noto all'epoca ed era un tizio un po' fuori dagli schemi perché ha scelto questa ragazza semplicemente dopo averle parlato una volta l'ha subito ingaggiata e poi le ha proposto di fare questa ricerca della durata presunta di due anni per studiare gli scimpanzè proprio lo stato naturale qualcosa che non era mai stato fatto prima ci aveva provato un tizio un certo dottor Ninse Nisse in pochi anni prima nella guinea francese ma era durato solo due mesi e mezzo e poi era aveva deciso di tornarsene a casa era un lavoro un po' difficile anche molto faticoso in Inghilterra tutti pensavano che una ragazza giovane una donna di 26 anni non sarebbe durata che poche settimane beh è rimasta lì per decenni e appena può ritorna dai suoi amati scimpanzè beh la scopera in quel caso lì è riuscita negli anni 60 proprio nei primi anni è riuscita a fare delle osservazioni che hanno cambiato radicalmente proprio la prospettiva che si aveva sulle differenze che i ricercatori gli studiosi del comportamento gli psicologi comparati gli etologi avevano sulle differenze tra uomo e animale soprattutto nell'uso degli strumenti l'uso degli strumenti era una caratteristica che si pensava unicamente umana in realtà gli scimpanzè erano stati osservati utilizzare strumenti molto molto prima che la gudalla facesse le sue osservazioni ma non in ambiente naturale le prime osservazioni sono state fatte da un etologo tedesco Otto Köhler che le aveva fatte però in cattività quindi avevano un valore completamente diverso la cattività non può escludere completamente l'influenza da parte dell'uomo e altri processi di apprendimento che comunque non sarebbero virtualmente presenti in natura l'osservazione della gudalla con un occhio assolutamente privo di preconcetti perché Vicky il professor Licky aveva scelto anche per questo lei non aveva una preparazione scientifica al tempo non una laurea minchimeno un dottorato ma il famoso primatologo per lui ha reputato un vantaggio non uno svantaggio questo perché perché per lui era una era un'occasione di avere una donna che potesse osservare senza preconcetti un comportamento in natura e una volta che ha riuscito a osservare questo tipo di utilizzo degli strumenti a vari livelli perché gli scimpanze usano diversi tipi di strumenti e lo fanno con un'evidenza finale finalistica vogliono proprio ottenere qualcosa quando uno scimpanze prende un bastoncino toglie le foglie ovviamente è chiara l'intenzionalità quella di inserirlo in un buco per estrarre termiti o formiche che siano ho osservato anche altri tipi di strumenti l'utilizzo per esempio delle foglie per pulirsi cosa che facciamo anche noi quando siamo in un bosco non abbiamo a disposizione altri oggetti per esempio stracci oppure a volte il masticare foglie e ridurle a una poltiglia ed inserire queste poltiglie nelle cavità di alcuni alberi per recuperare l'acqua che si era depositata se ci pensate è impossibile con le mani estrarre l'acqua in cavità piccole è una soluzione geniale da parte di un animale il paragone la distanza dopo queste scoperte la distanza tra uomo e scimpanze si è ridotta molto e non è stata più valutata come una distanza in termini qualitativi ma di fatto un po' quantitativi più di grado che di qualità però diciamo così l'opera della Goudal per non andarle troppo lontano non si limita solo a questo si limita anche a tante altre osservazioni al fatto di poter osservare in natura delle vere e proprie battaglie tra gli scimpanze con situazioni a volte tragiche in certi momenti ha osservato anche che mangiano la carne a volte uccidono altre scimmie e si cibano della loro carne è un comportamento meno frequente quindi anche questa è stata un'osservazione assolutamente innovativa però dal punto di vista almeno per rimanere sull'argomento diciamo così femminile la sua opera ha ispirato tantissime altre donne non solo tante scienziate ricercatrici tra cui Diane Fosse e Birute Galbicas che è un'altra scienziata che per 50 anni e tuttora studia solo gli oranghi in una delle massime autorità in merito ma ha ispirato tantissime donne in ogni ambito della conoscenza Jane Goudal racconta che quando va in giro ancora adesso a fare conferenze c'è sempre qualcuno che si avvicina a lei e a volte vuole addirittura esprimere in modo talmente forte la propria gratitudine che vuole abbracciarla spesso che a lei capita di voler essere abbracciata da qualche sua diciamo così putativa discepola che non ha conosciuto ma ha semplicemente letto il suo libro ha visto che un sogno poteva non rimanere solo un sogno ma essere realizzarsi se lei c'era riuscita potevano farlo anche gli altri questo probabilmente è il messaggio più forte che lei ha mandato e che manda tuttora comunque grazie Andrea grazie Andrea grazie a voi quello che io posso sicuramente dire è che se finisco in una foresta col cavolo che uso gli strumenti così bene cioè mi figurasse mi viene in mente di masticare delle foglie per raccogliare muoio di sete subito proprio decisamente anch'io sono rimasta sbalordita da questo esempio sì ma anche col cavolo che prendo il ramoscello se io prendo il ramoscello e gli tolgo le foglie dopo un secondo ho la mano aperta in due da un taglio e probabilmente poco dopo sarà infettato da qualsiasi malattia prima di tutto il tetano quindi sicuramente finisce così lo so già nel frattempo stiamo andando alla prossima domanda quindi tutti pronti allora la prossima domanda è nel 1642 ma basta con questi nomi Martine Beretot fu la prima donna ad occuparsi di mineralogia e fu incarcerata in Francia con l'accusa di la scelta è instigazione alla cristalloterapia aver rubato pietre preziose stregoneria frode comunque lo fate apposta cioè aver messo un nome in ogni domanda l'avete fatto apposta io lo so che l'avete fatto è una vendetta contro i chimici forse sì ma lo scoprirai solo alla fine Martine Beretot l'ho pronunciato malissimo Martine Beretot siamo andati un po' indietro nel tempo con lei siamo nel 1642 però ci fa scoprire qualcosa di questa scienziata una ragazza molto giovane una nostra dottoranda Stefania Corvò che è originaria di Genova ma poi si è trasferita a Pavia per la laurea magistrale e ha iniziato lì il dottorato è una ragazza molto in gamba che ne sa di mineralogia perché ha vinto un premio dell'Accademia dei Lincei per la sua tesi di laurea ora invece il dottorato è su un argomento un po' più vasto perché da sempre incuriosisce l'origine della terra e delle rocce e quindi alterna lavoro di campo con lavoro in laboratorio benvenuta Stefania ciao ciao a tutti a prima di tutto mi dispiace che tu sia Ligure che tu sia di Genova perché mi rendo conto è una città difficile quindi entrambi vivendo in questa città mi rendo conto della fatica che si fa quindi vabbè mi dispiace prima di tutto ci credo qui ho fatto l'inverno a Pavia mi sembrava di morire solo nebbia e gelo la stinenza della focaccia genovese mi fa ritornare spesso anche del mare a febbraio onestamente esatto va bene la risposta è la stregoneria hanno risposto in buona parte la maggior parte ha risposto corretto anche se molti di aver rubato l'avevano accusato di aver rubato pietra preziosa ma non è così quindi vai Stefania raccontaci sì allora diciamo la risposta poteva essere semplice intuibile se si pensa che il 1600 comunque è il periodo famoso proprio per la caccia alle streghe quindi stregoneria magari poteva essere appunto collegato facilmente ma perché abbiamo scelto giusto di parlare di Martin io direi più perché è francese comunque appunto è la pignoleria è considerata la la pioniera della mineralogia francese è nata appunto da una nobile famiglia della Turenna che si occupava lavorava nel settore minerario e sposò anche un barone che lavorava nello stesso settore una grande fortuna per Martin fu che il marito venne commissionato dall'imperatore del sacro romano impero Rodolfo II di andare a esplorare le miniere dell'Ungheria e questo permise quindi a Martin di viaggiare molto in Europa e non solo anche in America Latina proprio per esplorare le miniere è proprio durante questi viaggi che lei scrive molte opere inerenti alla mineralogia ma non solo anche inerenti appunto a come si può esplorare e localizzare le miniere e questo permise proprio il rilancio dell'attività mineraria in Francia che si era sospesa nel Medioevo è proprio in America Latina che lei impara l'utilizzo della pratica della radioestesia una pratica che serve per localizzare oggetti attraverso l'utilizzo di strumenti inerti come pendolo un pendolo o una verga a forma di Y che forse compariva nella immagine precedente e è proprio per l'utilizzo di queste pratiche che lei destò dei sospetti nel clero e quindi venne accusata proprio di stregoneria e incarcerata per fortuna siccome non vi erano evidenti prove del fatto che lei praticasse appunto la stregoneria venne liberata però dovete lasciare la Francia quindi ebbe appunto una vita abbastanza tortuosa solo sotto il re Luigi XIII riuscì appunto a tornare e ridedicarsi alla sua grande passione con il marito grazie Stefania per aver condiviso con noi un po' la biografia di questa donna pioniera della mineralogia adesso ti salutiamo ma poi sarai ancora con noi ti aspettiamo per un'altra risposta questo è spoiler questo è spoiler a dopo Stefania a dopo ciao allora avvisiamo che intanto stiamo andando verso la prossima domanda quindi ripreparatevi di nuovo tra l'altro chissà come sta andando la classifica potrei anche controllare credo come sta andando la classifica no lo possiamo vedere solo alla fine in realtà come sta andando la classifica quindi pronti per la prossima domanda cioè in realtà lo vediamo anche nel mezzo come sta andando la classifica solo che nel fatto stiamo presentando gli altri quindi ok dai la domanda è nel 1962 questa è famosa la biologa e zoologa statunitense Rachel Louise Carson non ci sta male apposta no Rachel Carson pubblica il libro Silent Spring Primavera Silenziosa a che cosa si riferisce con Silent Spring l'autrice le possibilità sono alla piacevolezza della vita in campagna al maggior silenzio nei campi per la riduzione di uccelli canori e insetti provocati all'utilizzo di insetticidi all'utilizzo di tappi per le orecchie durante il suo lavoro di ricerca a ritorno agli Stati Uniti di pratiche agricoli tradizionali e solo manuali allora ci aiuta a rispondere a questa domanda uno studente della laurea magistrale in scienze della natura e Marco Asnaghi che deve aprire la sua webcam ok ciao Marco ciao Marco benvenuto aspetta aspetta che dico qualcosa in più di te perché mi piace dire che sei interessato allo studio della biodiversità floristica e all'ecologia degli insetti impollinatori e che hai studiato prima a Milano bicocca e poi hai scelto di venire a Pavia a fare la tua laurea magistrale e abbiamo le risposte com'è andata è andata abbastanza bene ma chi non conosce la Carson dai cioè famosissima il tratto il libro due risposte che erano mi sembra ovviamente fasulle e due che però un'altra che poteva essere plausibile avevo pensato in realtà quasi tutti hanno indovinato eh ma perché la Carson è famosa ha cambiato tutto il concetto della diffusione dei pesticidi del controllo della diffusione dei pesticidi nell'ambiente quindi non ti spoil la risposta anche se non ti dico ovviamente no innanzitutto infatti mi sono stupito che stavi sbagliando anche questo nome mi sembrava abbastanza facile ma per fortuna stavi scherzando hai detto anche il nome in inglese allora del del titolo del libro che è stato pubblicato nel 1962 eh dopo che Rachel Carson si era trasferita nel Maryland eh che è una zona agricola non distante da Washington D.C. e in questo diciamo si era trasferita una casa di campagna e in questo contesto ha iniziato anni prima quattro anni prima della pubblicazione del libro ha iniziato a osservare questo fatto del silenzio nelle campagne e quindi si è iniziata a interrogare del perché delle ragioni di questo silenzio e quindi ha lavorato lungamente per quattro anni cercando di indagare e e poi alla fine nel 1962 è arrivata la pubblicazione e è interessante perché lei originariamente aveva studiato Biologia Biologia Marina e quindi di fatto aveva pubblicato tre libri in precedenza una trilogia di libri sul mare e quindi quando pubblicò questo libro fu accusata da moltissimi suoi colleghi ricercatori professori di essere incompetente rispetto a quello di cui parlava e inoltre fu diciamo fu accusata di essere una donna isterica che mi sembra abbastanza fuori contesto fuori appellativo diciamo e e quindi si aprì proprio un fronte di contestazione enorme che includeva professori ricercatori come ho detto ma anche personalità ai vertici dell'industria farmacea dell'industria chimica dell'industria dei fitofarmaci che la minacciarono di portarla in tribunale e fu veramente super combattuta nonostante poi quello di cui c'è in realtà appunto per quanto non fosse la sua materia lei si era documentata moltissimo aveva cercato di creare una rete di ricercatori a cui si appellava per approfondire gli argomenti di cui voleva trattare in questo libro e poi in realtà appunto questo libro come dire la storia le diede ragione perché si scoprì che appunto fu scoperto nel tempo che gli effetti biologici ecologici anche per la salute dell'uomo stesso dell'utilizzo così massiccio di agrofitofarmaci nelle monoculture degli Stati Uniti ma in tutto il mondo e quindi questo testo rappresentò in qualche modo il manifesto non ufficiale di un nascente movimento ambientalista che nasceva appunto in quegli anni negli anni 60 negli Stati Uniti e che poi per fortuna questo testo è noto ancora oggi e sì poi volevo dire che in realtà questa personalità appunto è molto famosa le sono state dedicate tantissime cose opere d'arte monologhi una sinfonia gli è stato dedicato un ponte di Pittsburgh perché questa cosa non la so benissimo ma ci sono a Pittsburgh tre ponti che credo sono chiamati i ponti del gemelle e quindi uno è stato dedicato a lei ma poi una cosa molto interessante secondo me è che nel oddio non mi ricordo mi sembra a fine anni 90 le è stato dedicato un premio a Stavanger in Norvegia che è appunto il premio Rachel Carson che viene assegnato ogni anno a una donna che si impegna concretamente molto per la tutela dell'ambiente e nel 2019 questo premio è stato assegnato a Greta Thunberg che al di là prima del covid tutti conoscevamo molto bene adesso i telegiornali parlano di altro però dovrebbe essere nota ai più e non so io ah sì volevo dire questa cosa brevemente velocissimo in merito appunto al mio anno io sono al primo anno di scienze della natura magistrale a Pavia e nel mio nel mio corso diciamo per fortuna sembrerebbe che le ragazze rappresentano la maggioranza diciamo adesso non saprei dire con precisione ma il 60% ragazze e 40% maschietti e però appunto in riferimento anche a quanto si diceva prima che il grafico a forbice che progressivamente risalendo il curso sonorum della carriera accademica c'è un po' questa inversione e quindi io spero che questa tendenza che ormai va avanti da decenni cambi un po' nel prossimo futuro e quindi invito le mie compagne di corso a darsi da fare e cercare di fare dottorato carriera accademica così cerchiamo di invertire un po' questa tendenza grazie Marco per il tuo augurio grazie a voi pioniera del movimento ambientalista grazie mille grazie mille a voi buona continuazione grazie allora questa tra l'altro c'è una domanda di Andrea di Andrea Bersani che diceva questa storia ha a che fare con la moria delle api che vediamo da anni nel senso che la moria delle api che vediamo da anni in realtà può essere causata da altri non più la Carson aveva fatto questo approfondimento in particolare sul DDT che era il pesticida più utilizzato all'epoca e peraltro come ha detto anche un po' Marco è diventato quel libro il manifesto di un movimento ambientalista sia in senso positivo che in senso negativo perché poi è diventato il manifesto anche di cose che lei non voleva dire per esempio lei non ha mai richiesto l'eliminazione completa del DDT ma ha semplicemente sensibilizzato sull'uso assolutamente incontrollato e fuori dalla logica del DDT che veniva fatto all'epoca quindi siccome il DDT era perfetto adesso in realtà c'è un capitolo del mio libro che verrà pubblicato prossimamente su questa roba ma il DDT è l'insidicida perfetto perché è persistente l'ambiente dura tantissimo e non è solubile in acqua e quindi è l'ideale come insetticida il problema è che essendo persistente l'ambiente e non solubile in acqua è anche il pessimo per l'ambiente e quindi è un po' questo confronto fra quello che era per l'epoca l'ideale per controllare l'invasione degli insetti e dall'altra parte i danni ambientali che non venivano minimamente considerati e questa è stata l'importanza del libro della Carson nel cambiare questo paradigma cioè una cosa che mi funziona bene non vuol dire che la posso usare assecchiate per strada poi però purtroppo questa cosa è stata un po' strumentalizzata anche dall'altro lato arrivando all'estremo opposto che come sempre come era sbagliato l'estremo prima è sbagliato l'estremo dall'altra parte nonostante la Carson non avesse minimamente intenzione di arrivare a quell'estremo lì va bene andiamo avanti con la quiz è che se mi triggerate sulla parte chimica poi io vado avanti i cento anni a parlare quindi è una fregatura Claudia mi sta odiando no 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 siamo sotto controllo non siamo così tanto fuori no le donne fino agli anni 30 sia in Italia che all'estero venivano considerate non idonee alla geologia di terreno perché prima di tutto io pronuncierei un nome a caso Marie Curie perché in questa domanda non c'è un nome quindi mi sembrava sbagliato che non ci fosse le possibilità comunque sono perché è troppo pericolosa perché non sono adatte dal punto di vista fisico il luogo non consono per il codice delle buone maniere a causa di convenzioni sociali come l'abbigliamento allora ci aiuta a rispondere a questa domanda una ragazza che conosciamo già Stefania Corvò che come vi dicevo è una geologa laureata a Pavia che ha iniziato il dottorato che lavora molto sia sul terreno che in laboratorio cioè lei va direttamente a prendere i suoi campioni Stefania sì ho sbagliato hai sbagliato fatto spoiler ci voleva un po' di improvvisazione dovevamo fare qualche errore prima o poi quindi eccomi di nuovo qui sì esatto come appunto ha detto Claudia nel mio progetto di dottorato ho la fortuna di andare sul terreno e appunto campionare di persona le rocce che poi studio nelle mie attività di laboratorio quindi questa domanda è molto interessante giusto anche per il giusto ed è anche la prima domanda che la cui maggior parte delle persone sbagliano a rispondere nella quale la maggior parte delle persone sbagliano a rispondere perché 19 hanno detto che non leggo fin là non adatto non adatto dal punto di vista fisico sì questo è interessante perché allora giusto per spiegare la domanda la prima fotografia che rappresenta una donna geologa quindi in vesti da geologia di terreno che indossa pantaloni risale proprio agli anni 30 del 900 e neanche in Italia in Australia questa geologa esempio che appunto viene raffigurata in una fotografia è la geologa paleontologa australiana Dorothy Hill che divenne anche prima professoressa all'università australiana prima degli anni 30 infatti le donne venivano considerate non idonee all'attività della geologia di terreno principalmente per convenzioni sociali i principali due motivi erano uno che erano obbligate a indossare delle gonne lunghe scomode appunto per l'attività di terreno o anche cappellini immagino cappellini quelli con le piume insomma che per l'ambiente di geologia di terreno non sono appunto adatti e secondo motivo perché dovevano essere accompagnate da una figura maschile quindi che fosse il marito il fratello comunque da sole non potevano andare e quindi questo ovviamente creava delle limitazioni in Italia la prima fotografia di donna geologa appunto sul terreno compare solo negli anni sessanta è curiosa appunto che abbiano risposto in molti cioè giusto la seconda perché ci possiamo collegare a giusto dei al mondo attuale che è il motivo appunto che ci sono ancora molti pregiudizi riguardo alle capacità delle donne geologhe appunto sul terreno che non sono considerate idonee che non hanno dei limiti di forza insomma quindi appunto ci colleghiamo anche a puoi smentire Stefania questo hai limiti di forza nel campionare portare nello zaino i tuoi campioni non penso perché giusto l'ultima volta che sono andata sul terreno sono andata in Svizzera e ho raggiunto quota 2000 metri e portandomi lo zaino in spalla e anche i campioni a scendere quindi quindi penso di essere un esempio tra le testimonie ho fatica ad andare dal panettiere quindi figurati ovviamente la base è avere la passione per la geologia ovviamente secondo me se hai quella puoi andare dappertutto un po' di allenamento perché il fiato ci vuole le gambe buone anche però per prima cosa quello che guida mente e cuore è la voglia di arrivare a quella cina esatto ma poi scusami ma anche anche ci fosse una differenza di forza e quindi tu avessi un collega più forte fisicamente ma rifilagli a lui i campioni non è che tu non devi andarci scusami non ha capito quale stia no ma che vuol dire non è che se porto una zaino da 50 kg e quell'altro l'altro due metri ha le spalle d'armadio e allora io lo devo fare la geologa cioè vabbè sono cose che non capisco comunque va bene bene grazie Stefania grazie Stefania grazie a voi ciao 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 allora andiamo avanti con la prossima domanda prossima domanda cambiamo ambiente esatto allora tre due allora per quale motivo lo sapevo che mi fregavate questo sarà tipo url tipo il t o vabbè provaci poi lo scopriremo esatto perché si facciamo così per quale motivo Silvia è soprannominata a sua profondità le possibilità sono ha collezionato più di 6.000 ore di immersione per i suoi studi sui moti convettivi del mantello terrestre per aver scavato a maiude fino a 500 metri di profondità che male la sua intensa attività speleologica allora scopriremo di più di sua profondità grazie a Jasmine Ferrario che è avevo spoilerato un secondo fa avevamo mostrato poco prima è una assegnista del nostro dipartimento è una biologa marina che si occupa anche lei di bioinvasione del Mediterraneo quindi di specie aliene del Mediterraneo ma in particolare studia quegli organismi che vengono trasportati dalle imbarcazioni ciao Jasmine benvenuta ciao a tutti beh vedo che la risposta l'hanno l'hanno dretta tutti era abbastanza semplice ma la prima domanda è come si pronuncia il nome penso Silvia Earl però sono di madrelingua inglese quindi tu dici convinto Earl io annuisco Claudia pure pure e andiamo avanti la terapia abbiamo portato a casa vai allora questa signora 85enne è una famosissima oceanografa che è definita anche una leggenda vivente ed è anche la donna delle prime volte perché ha fatto tantissime cose per la prima volta innanzitutto è soprannominata a sua profondità per le oltre 6.000 ore che ha passato in immersione ed è anche una donna dei record perché è andata in immersione alla massima profondità di 381 metri senza l'uso di un sommergibile e non è solo la prima donna ad averlo fatto ma il primo essere umano quindi è davvero una donna da record e fin dalle superiori diciamo si è appassionata all'ambiente scientifico che era un po' più relegato verso il settore maschile però lei ha perseguito questa sua passione si è iscritta all'università e ha notato come nel college fosse quasi spesso cioè quasi sempre l'unica donna a frequentare le lezioni in questo ambito però è andata avanti ha avuto coraggio e determinazione e nel 1964 è stata la prima donna da fare una spedizione oceanografica su una nave con 70 uomini e questo ha avuto una risonanza mediatica enorme perché comunque le donne iniziavano ad essere viste abbastanza bene nella scienza però non molto bene nell'entrare nel far parte di un'equipe di soli uomini su una barca su una nave e quindi sei settimane da passare con gli uomini era vista un po' maluccio però lei ha avuto coraggio e anzi ha anche lasciato dei consigli per come superare come affrontare queste situazioni ovvero quello di mantenere il senso dell'umorismo non aspettarsi favoritismi dagli altri uomini ma soprattutto fare quello che si è lì per fare quindi prendere sul serio la propria ruola la propria posizione di scienziata quindi questo è un grande insegnamento che ci lascia ma non è ancora morta quindi anzi ancora una donna che si dedica alla scienza definita anche la Jane Goodall dell'oceano perché anche lei ha fondato un'associazione la Mission Blue che fa proprio divulgazione scientifica per la conservazione degli oceani e è convinta che viviamo in questo momento in epoca veramente importante per le esplorazioni grazie anche agli sviluppi tecnologici che adesso ci aiutano danno agli scienziati degli superpoteri e dice che con questi poteri noi non dobbiamo fare altro che continuare andare a investigare e conoscere il passato per riuscire a risolvere i problemi del futuro che verranno e quindi diciamo una donna molto molto importante come curiosità così per concludere ha dedicato il nome di un pesce che ha recentemente descritto al presidente Barack Obama per ringraziarlo per aver istituito la più grande area marina protetta al mondo grazie Jasmine cosa avete in comune tu e questa sua profondità beh a parte le immersioni subacquee ma io non sono arrivati a quelle ore di immersione ahimè però anche lei anche lei si immerge anche per le sue ricerche quindi c'è qualcosa che vi lega ah sì apre la strada anche per te però scusa Jasmine prima di tutto lei non le ha fatte 6.000 ore consecutive quindi nel senso tu hai ancora tempo per raggiungerci è un po' di anzianza è un po' di anzianotta quindi insomma senza voler però insomma peraltro forse sei quella che questa sera ha lo sfondo più bello quindi ho ritoccato un po' lo sfondo grazie mille ciao grazie a voi ciao peraltro che si era che avere un bello che si era che avere un bello sfondo è negativo in questa live perché abbiamo fatto di tutto per averlo brutto quindi lei è oggettivamente la peggiore di noi avendo uno schermo uno schermo bello uno sfondo bello va bene prossima domanda ci stiamo avviando verso le ultime domande quindi se volete rispondere bene è questa l'occasione perché la classifica si sta delineando quindi fate attenzione a quale orto botanico diresse e vabbè ma questo allora l'università di studi di Pavia di Cagliari di Padova o dell'università di Pisa allora ci parla di questa interessante donna che scopriremo avere anche un figlio molto noto Eva Mameli ce ne parla Nicola Ardenghi che è curatore dell'orto botanico di Pavia è nostro laureato si occupa di botanica sistematica studia anche la storia della botanica la fitogeografia e quindi è persona pienamente titolata per parlarci di Eva Mameli benvenuto Nicola ciao deve smutarsi devi smutarti Nicola ok ciao a tutti ciao ciao grazie dunque Eva Mameli spesso è ricordata semplicemente per essere stata la madre di Italo Calvino grande scrittore del secolo scorso ma in realtà dietro a questa definizione c'è tanto altro c'è una grande scienziata eclettica direi e anche una donna avventurosa che non ha trascorso da ricercate la sua vita semplicemente all'interno del suo laboratorio ma è riuscita ad affacciarsi e a uscire da questo laboratorio partecipando addirittura attivamente anche alla vita sociale e politica di quel secolo travagliato che è stato il ventunesimo secolo Eva Mameli ha iniziato la sua carriera di botanica proprio all'orto botanico di pavia e qui ha iniziato a studiare soprattutto le cosiddette piante inferiori e i funghi quindi diciamo non le piante con i fiori vistosi che poi lei conoscerà più avanti durante la sua vita e durante i suoi viaggi e nel 1915 Eva Mameli fu la prima donna in Italia ad ottenere la libera docenza in botanica quindi questo è stato un grande traguardo un primo grande traguardo fondamentale per le donne nell'ambito della scienza nel nostro paese nello stesso periodo durante la sua permanenza a pavia scoppiò la prima guerra mondiale e lei non rimase ferma chiusa nell'orto botanico ma si prestò alle cure dei dei feriti nel vicino ospedale del Ghislieri la sua vita fu un susseguirsi di avventure soprattutto a partire dal 1920 quando conobbe Mario Calvino che era un agronomo e botanico di nove anni più anziano di lei che giunse in Italia proprio per cercare una giovane botanica laureata affinché curasse la sua stazione agraria a Cuba ma anche perché era alla ricerca di una moglie e nel giro di pochi giorni contattò Eva Mameli sulla quale si era preparata e di cui conosceva molto bene le pubblicazioni che aveva realizzato fino ad allora giunse a Pavia bussò alla porta di casa sua con due biglietti del piroscafo per Cuba e gli chiese di sposarlo lei ci pensò giusto una settimana e accettò e questa è stata una scelta veramente che anche oggi lascia spiazzati partì per Cuba dove trascorse diversi anni e dove tra l'altro nacque anche il figlio Italo ma le avventure non sono finite qui perché nel 25 lei è tornata in Italia e le venne affidata la direzione dell'orto botanico di Cagliari dal 26 al 29 e anche qui fu una donna da primato perché fu proprio la prima donna in Italia a dirigere un orto botanico che riportò fra l'altro a un antico splendore che nel frattempo aveva perduto se posso dire una cosa se la mia se io chiedessi di sposarmi alla mia ragazza e la mia ragazza dice se ci penso una settimana non funziona più tanto bene oggi questa cosa è anche vero che forse non l'avrei conosciuto una settimana non avrei detto il primo giorno che lei bussa alla sua porta ecco questo diciamo la personalità molto vivace di questa signora si manifestò anche durante il secondo conflitto mondiale durante il quale lei assieme tra l'altro ai due figli Italo ma anche Floriano che fu un geologo partecipò alla resistenza dette rifugio a molti partigiani e fra l'altro fu anche arrestata in diverse occasioni lei poi proseguì continuò la sua terza età a Sanremo in Liguria dove diresse un'altra stazione agronomica e si interessò continuò a interessarsi di botanica ed in particolar modo alla floricoltura si occupò di selezionare tante varietà di piante coltivate in particolar modo iris e il figlio Italo la ricordò proprio come la maga buona degli iris grazie grazie mille Nicola per questi aneddoti molto belli molto ben raccontati grazie è stato piacevolissimo grazie buona serata ciao allora ci avviamo alla conclusione praticamente ci avviamo esatto all'ultima domanda quindi mi raccomando rispondete con molta attenzione anche la domanda che consideriamo più difficile non lo so non è vero non credo perché era un po' così di tensione esatto perché era un po' sappiate che solo quattro persone sai come quelle cose succedono sui social solo quattro persone su cento rispondono correttamente a questa domanda e se rispondi così hai un qui di centottanta mettiamola lì che tanto fa tutto tutto fa brodo vediamo un po' di cosa si tratta allora dopo quanti anni dalla fondazione della società geologica tagliata è stata eletta la prima presidente donna quindi la prima presidentessa allora le opzioni che io mi dimentico sempre di leggere perché dovrei leggerle sono dopo centotto anni dopo centocinquantun anni dopo centotrentadue anni e dopo centotrentaquattro anni allora ci aiuta a rispondere Chiara Amadori che abbiamo conosciuto all'inizio di questo nostro quiz e ci aveva già detto che la società geologica italiana è la società più antica del nostro paese anche Chiara Amadori è una geologa è una geologa segnista del nostro dipartimento professore a contratto del nostro dipartimento si occupa di sedimentologia e studia i misteri della pianura padana e dell'adriatico perché c'è molto ancora da scoprire e da capire di queste aree dal punto di vista geologico e abbiamo già detto di lei tante cose che è una delle fondatrici di questa divisione Pangea ma ha fatto anche molto attivismo all'interno dell'associazione dei dottorandi italiani è stata membro del senato dell'università di Pavia rappresentante dei dottorandi quindi si impegna molto sia dal punto di vista sociale diciamo che dal punto di vista poi della ricerca scientifica benvenuta bentornata Chiara apri il microfono apri il microfono però grazie grazie dell'introduzione hai saltato la linea del curriculum che diceva che una delle mie passioni è mangiare in compagnia nonostante la pandemia però ne hai leccate tante ma questa non era di meno di minor importante è che sai che credo che Claudia ci tenga a farmi stare antipatiche le persone facendole raccontare tutti questi curriculum io mi sento svilito rispetto al mio e quindi Simone se io raccontassi il tuo anche tu ti sentiresti così valorizzato sarebbe facilissimo chimico fine no non è vero non è vero però sono tante persone molto in gamba quindi dobbiamo dirlo che sono persone in gamba no no ma sto scherzando ovviamente guarda in realtà questa cosa io l'ho imparata a chimica da un mio professore che diceva sempre che le persone più brave di lui stavano sulle palle proprio perché erano più brave di lui no e quindi ma lo faceva come moto di stima in realtà non come era un acidone abbiamo la serata con quella che sta più sulle scadole no no figurati allora aiutaci a capire la risposta solo nove persone hanno risposto correttamente quindi la risposta corretta era Maria Bianca Cita dopo 108 anni quindi benché la società georgica italiana fu è stata la prima società che ha insomma voluto identificarsi ufficialmente come società scientifica e ce ne ha messo di tempo prima di insomma poter lasciare lo scettro della sua direzione ad una donna ma Maria Bianca Cita è diciamo un personaggio da raccontare perché non è assolutamente una geologa qualunque classe 1924 ancora in vita e diciamo molto più sveglia della qui presente era chiamata la signora degli abissi oppure Silvia Earle italiana quindi ecco perché era un legame con la domanda di prima perché anche lei è stata in numerose campagne scenografie quindi anche lei ha contribuito tantissimo all'evoluzione della geologia marina e in particolare anche della micropaleontologia ma degli oceani dei mari lei grazie a lei il Mediterraneo ha praticamente potuto svelare uno dei suoi più grandi segreti ovvero durante una sua spedizione quella diciamo più forse più importante la prima del 1970 a bordo della Gromal Challenge che era probabilmente la nave più all'anguardo all'epoca in tema di esplorazione e carotaggi oceanici praticamente tirando su carote e studiando sedimenti lei e colleghi si sono accorti che c'erano centinaia di chilometri fino centinaia di metri fino ad alcuni chilometri di evaporiti nel Mediterraneo quindi carotando i fondali del Mediterraneo sono trovate rocce evaporitiche le rocce evaporitiche sono per esempio il salgemma o il gesso il salgemma non è altro che il sale il sale da cucina quindi questo è un blocco di sale per esempio che è quello che grattugiato metteremmo nell'acqua per cuocere la pasta ma quando parliamo di rocce evaporitiche ci viene spontaneo pensare appunto all'evaporazione dell'acqua e quindi alla sua assenza o comunque al suo graduale diminuzione ecco Mediterraneo però è un mare eppure per quanto sia semi confinato è abbastanza consistente bene la presenza di questi grandi spessori di rocce evaporitiche nel fondo del mare e in particolare datati circa 6 milioni di anni fa hanno un significato ben preciso ovvero si è ipotizzato diciamo è una forte ipotesi che ha dei grandi dati a sostegno che il mare Mediterraneo fosse chiuso ad un certo punto della sua vita quindi appunto circa 6 milioni di anni fa Gibilterra che è comunque un corridoio abbastanza stretto diventò un muro diciamo una soglia vera e propria bloccando quindi la connessione idrologica tra l'acqua oceanica dell'Atlantico e il Mediterraneo stesso ovviamente come tutti i tipi di bacini una volta che una persona ne blocca la connessione l'acqua è entrata l'evaporazione diciamo è il processo quello più importante e lo studio di questo tipo di rocce ci ha fatto scoprire appunto ci ha fatto innanzitutto ricostruire questo grandissimo evento evaporitico che ha interessato tutto il mar Mediterraneo se l'acqua evapora ovviamente il livello si abbassa si stima quindi che il Mediterraneo quindi il pelo d'acqua nella superficie del mar Mediterraneo fosse all'epoca più basso di un chilometro e mezzo rispetto a quello che conosciamo oggi questo ci fa immaginare tutta la regione mediterranea quindi da Gibraltar a Cipro come aree quasi totalmente emerse con dei piccoli laghi molto salati perché l'acqua che rimaneva era veramente ricca di sali tra cui appunto quelli che precipitavano maggiormente erano il gesso che è un solfato di calcio di idrato e salgemma Simone magari sei contento che illuminiamo un po' di elementi esatto infatti sto capendo e quindi e non è comune insomma chiudere un mare e precipitare chilometri di evaporiti non è assolutamente comune infatti io mi chiedo chi sia stato quello che a un certo punto ha detto ma si chiudiamo qui tanto non succede niente quindi arrivato lì con un padire ha chiuso Gibilterra perché poi è quello che sarà sicuramente successo all'epoca quanto sei milioni fa no? esatto quindi nel 73 lei e i colleghi appunto che un po' guidavano la spedizione pubblicarono su Nature questa grande scoperta che ancora ad oggi è uno dei temi più controversi più dibattuti della geologia tant'è che dal 73 ad oggi più di 1800 articoli sono pubblicati per cercare di comprendere tutte le condizioni al contorno di questo evento che finora è unico nella storia del record geologico che inizia diciamo qualche miliardo di anni fa e finora sembra essere veramente peculiare però la geologia ci insegna che ciò che è successo nel passato potrebbe succedere anche nel futuro why not? e quindi è molto importante riuscire a capire il perché ciò è successo perché ci aiuterebbe poi a fare degli scenari anche nel futuro quindi un po' la controversità che è un po' la madre della scienza dovrebbe esserlo è un po' quello che caratterizza Maria Bianca controversità anche con gli uomini perché appunto lei era una persona molto di polso nonostante i suoi studenti la descrivono come una persona amabile perché con i suoi studenti lei veramente amava prodigarsi e quello che raccontava sempre a loro è che insegnare non è riempire un secchio ma accendere un fuoco quindi un po' forse descrive il personaggio forte ma comunque vicino a tutti i suoi ragazzi se vogliamo raccontare che magari per farvela conoscere meglio vi faccio vedere un video perché di personaggi del genere quando si ha la fortuna di averli ancora in vita fa piacere anche poterne ricostruire il percorso in totale per essere di esempio al futuro e su di lei si sta ci sono scritti anche degli articoli alcuni capitoli di libri dedicati a delle scienziate ma si sta facendo un documentario apposta di cui mi farebbe piacere ci farebbe piacere proporvi il trailer così per anche un po' per chiudere la serata e per accompagnarvi insomma nel vostro futuro scientifico certo ci sono due cose che dobbiamo fare prima di vedere il trailer il primo è poi noi ci dobbiamo parlare chiara fuori perché io voglio capire poi quando a un certo punto è arrivato qualcuno che ha aperto di nuovo Gibilterra ricordo non so un Leonardo un antenato di Leonardo un antenato di Camillo Benso Conte di Cavour che ha irrigato il Mediterraneo la mia idea è appunto che sia arrivato uno o sei milioni a qualcosa d'anni fa a riaprire un qualcuno che usasse gli strumenti adeguati esatto dopo aver masticato delle foglie e le abbia tolte dal Gibilterra come mai non si sono sciolte le vaporiti ma ne parleremo magari con in una puntata di Scientificast in cui spiegarei più nel dettaglio questa cosa l'altra cosa che dobbiamo fare invece è che è molto importante è guardare come sono andati i risultati del quiz allora andando alla prossima vogliamo fermare il quiz yes allora eccoci qua il terzo è Giacomo il secondo è Andrea il primo è Martino con la foto di un ghiacciolo mangiato bravissimo Martino che sei arrivato primo questi sono i risultati allora faccio notare che nella top 10 c'è Simone sei bellissima che questa cosa è abbastanza inquietante perché se sei così scemo da aver messo questo nome o scema ad aver messo questo nome non mi spiego come tu sei arrivato quinto o arrivata quinta però bravissimi Martino Andrea e Giacomo per aver preso le prime tre posizioni soprattutto Martino che ha beccato il 90% delle domande ne ha sbagliata solo una la penultima nella curatrice dell'orto botanico quindi grazie mille torniamo a fare di noi quindi bravissimi il primo classificato come sempre in questi quiz non ha vinto niente se non la gloria di aver vinto questa cosa e soprattutto dobbiamo ringraziare anche Andrea che è il secondo classificato ed è uno di Scientificast che quindi che non aveva le risposte alle domande ma è la nostra Bibbia vivente perché lui sa sempre tutto di tutto purtroppo ragazzi è un fisico nessuno è perfetto è un fisico delle particelle quindi nessuno è perfetto va bene allora io ringrazierei tutti quelli che sono stati con noi stasera tutti i nostri ospiti e tutti quelli che hanno seguito questa live fino adesso Claudia sì io veramente voglio ringraziare Chiara Amadori che con me ha curato quest'idea Stefania Corvò e Silvia Tamburelli e Jasmine Ferrario perché mi hanno aiutato molto a costruire questa idea devo ringraziare poi il piano lauree scientifica e geologia e il suo responsabile Patrizio Torrese perché ci ha finanziato un pochino per fare le cose bene e poi non da ultimo voglio fare gli auguri a Chiara Amadori perché odio il suo compleanno e secondo me non è una cosa da poco conto festeggiare il proprio compleanno proprio nel giorno dedicato alle donne nella scienza quindi non commuoverti però siamo molto contenti di averti con noi proprio per festeggiare anche il tuo compleanno Allora voi non andate via perché adesso c'è appunto il videotrayer che guardate che è super commovente è bellissimo quindi guardate io nonostante la geologia non sia una vera propria scenda no in realtà è bellissimo questo trailer quindi guardatelo grazie a tutti per la serata e vi diamo appuntamento al prossimo appuntamento di Scientifix magari un prossimo appuntamento con le live con l'università di Pavia grazie Claudia grazie Chiara un piacere enorme e grazie a tutti grazie a tutti per aver partecipato ciao lei non lo sa ma io quando ho cambiato completamente le mie priorità la mia conciutaggine è stato quando io ho incontrato la geologia marina la Clamor Challenger era la più grande nave da perforazione l'unica che ci si stesse al mondo io sono stata la prima volta nel 68 e sono stata la prima non americana come mai hanno invitato me l'ho saputo dopo a posteriori dopo un bel po' di tempo è certo io conoscevo i forze e quindi li ho determinati lei ha anticipato quella che è la geologia moderna tornate indietro e dico oddio questa è la nuova frontiera della geologia lavorare sul terreno andare va benissimo l'ho fatto ma se uno va in mare c'è tanto di più di nuovo da scoprire che perché no e sono stata fortunata perché io avevo chiesto il leg che aveva meno meno giorno subito dopo due anni dopo è venuto il leg famoso leg 13 nel Mediterraneo che ha avuto un grossissimo impatto anche sulla popolarità del progetto perché questa scoperta non prevista e assolutamente straordinaria della crisi di salinità del Messignano ha dato luogo a una grande campagna di supporto uno vede che ci sono delle cose ancora da scoprire importanti è unico io non penso di comparirlo con altri io penso che è qui e tutti gli altri devono ottenere il passaggio a lei il Messignano in totale è perché non può essere così io sono stata due volte con l'Albi nel 78 e nel 77 soprattutto nelle immersioni profonde quando si arriva in fondo al mare cambia completamente l'ambiente ho visto delle cose stupende a livello internazionale era vista come una grandissima ricercatrice una grandissima persona la scienza è scienza quando uno ha l'occasione di andare sull'Albin e ci va Maria Bianca Cita è la mia più importante professore in vita grande rispetto da parte di tutti anche i suoi antagonisti perché le sue interpretazioni le sue teorie tuttora non hanno un consenso unanime cosa che tra l'altro è abbastanza normale in geologia Maria Bianca Cita era vista bene da quelli che hanno capito che cos'è una vita dal cercatore io ho tirato troppo ho tirato troppo non ho saputo non so non so perché capisce l'essere arrivata così e perdere tutto per un pugno di mosche in mano non lo so non so non so che un'espasso non so non so non so Grazie.